ciao a tutti i papà di tumore questa sera fa un nuovo tag si chiama tag le mie esperienze scolastiche lo faccio perchè non ho trovato sui tumore mi piace molto come tag quindi inizio allora sono a unici di nuovo all'inizio allora qual'era la tua materia preferita probabilmente era scienza adesso non mi ricordo qual'era la materia accogliavi di più matematica assolutamente non sono stata mai brava in matematica quindi niente che cosa ho imparato dalla scuola a sapermi difendere dalle persone a figarvene delle persone che mi insultavano e in educazione poi tante tante altre cose poi elenca tra cazzate che ho fatto scuola tra cazzate che ho fatto scuola che ne so che vabbè di saltare la scuola poi la seconda di di voler fare delle foto a scuola in interno servizio fotografia e poi la terza di aver disegnato il suo amore così ma tanti anni fa poi allora racconto la nota più strana che trovi non è bello puoi dirne anche più di una ma diciamo che che abbiamo preso forse il fatto che parlavo tanto mi pare la nostra è una foto scuola qua siamo io un unico un bar vicino a casa sua con la pietra qua poi io ho chiuso perchè non si faceva più sentire insomma le solite cose e racconta la tua più grande figura di merda ma per scuola ma io a volte che ne so quando penso parlo d'altra voce lo so no non lo parlo non lo parlo non lo parlo non lo parlo poi 8 qual è stato il tuo ultimo diario della 7 della 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 7 della mmm aspettate che prendo non lo parlo non lo parlo non lo parlo non lo parlo poi 9 qual è stato il tuo grande soddisfazione scolastica il fatto di che delle volte prendevo prendevo dei voti buoni quindi nonostante magari non avevo molta voglia di studiare 10 10 rimpiangi al quale se si coda se io rimpiango di non aver perduto il diploma perchè a quest'ora avrei meno problemi a trovare lavoro sicuramente quindi e poi comunque il fatto che si stava bene con le compagnie quindi insomma poi 11 tengo 5 persone che dovessi dovranno rispondere a queste domande allora taggo eh vedete che guardo taggo Juliet make up poi Alessandra poi chi è che posso tagliare poi taggo roly make up roly make up e guido da Giulia quindi taggo queste persone un bacio ciao